Micichè lascia il Senato e resta a Lars al suo posto la seracusana Daniela Ternullo. L'ex deputata Lars, la seracusana Daniela Ternullo, sostituirà al Senato Gianfranco Micichè che ha annunciato che domani presenterà le dimissioni dal senatore. La faida dentro Forza Italia in regione tra i motivi della scelta di Micichè che ha detto in aula di voler restare a Lars anche per difendermi. Il riferimento al fatto che se lui avesse optato per il Senato e il suo gruppo a Lars quello nato dalla frattura con i forzisti legati a Schifani rischerebbe di essere sciolto perché resterebbe forte di due soli deputati. Forza Italia è una sola, ribadisce Micichè, ma nel partito mi vogliono fare fuori con modalità feroci perché hanno paura che le liste, ora che si voterà a Catania e altrove, le farò io. Ma se lo mettono in testa il simbolo ce l'ho io e solo Berlusconi me lo può togliere. Micichè si è lamentato in aula di avere sentito voci in base alle quali la deroga al suo gruppo per restare autonomo senza dover confluire nel misto starebbe per essere negata. Nella scorsa legislatura abbiamo dato la deroga perfino a Fratelli d'Italia. Mi chiedo ora se questa regola si stia trasformando in una discrezionalità, ha detto Micichè a Lars facendo riferimento a presunte pressioni degli uomini vicini a Schifani sull'attuale presidente dell'Ars, Gaetano Calvagno. Presidente Calvagno ha detto Micichè non si permette di decidere in modo discrezionale.